buongiorno pollicione se volete iscrivervi vi ringrazio attivate la campanella per ricevere le notifiche e ringrazio sempre chi vuole condividere i miei video devo tornare sulla questione rdc e dei nemici delle rdc ve l'ho detto io continuerò a combattere questa battaglia di vigilanza per ricordarvi che il pericolo è reale e sottovalutarlo non è una semplice questione di dimenticanza ma veramente è una questione di ignavia se poi vi toglieranno questo diritto non guardate intorno per cercare un responsabile ma guardate prima di tutto voi stessi che non lo avete difeso quando era il momento e poi devo dire una cosa su quello che è successo a gorizia ieri il senatore gian luigi paragone fa una diretta su faccialibro ricaricata sul tubo in cui ha complimenti tra l'altro al senatore in questione che mentre guida fa una diretta col telefonino e dalle immagini che si vedono non porta la cintura complimentoni eh magari magari ci vedo potete andare a guardare il video è è disponibile l'ha caricato ieri però a me sembra che la cintura non ci sia ma anche con la cintura se vuoi fare una diretta col telefono ti fermi non metti in pericolo gli altri mettiamo subito un puntino importante il signore in questione non risponde mai ai commenti ha messo lì una ragazza che a volte veramente a guardarla sembra in imbarazzo lei a leggere le cacchiate che deve leggere perché alcune sono veramente cacchiate e lui non risponde mai fa questa diretta e inizia attaccando la morgese o meglio salvini rapportano la morgese e lì poco da dire il ruspa poteva buttare fuori la morgese che è un altro di quei ministri chiavica che letteralmente stanno infestando il parlamento che per l'ennesima volta ha fallito in merito alla questione di peschiera tra l'altro invito a vedere invece il video di di masala che ha centrato un punto riferito proprio la nostra parte cioè la sinistra ci siamo mossi tardi e male dal punto di vista della dialettica perché quello che è successo non lo si può derubricare per fini politici altrimenti si dà spazio gli estremismi va bene comunque un'ottima un'ottima analisi che ha fatto masala dicevo parte da lì e dopo un po' salta fuori il rdc per cosa salta fuori perché per contestare il ruspa che poteva sfiduciare la morgese non l'ha fatto e che è andato a fargli manifestazione nelle zone di peschiera lui tira in ballo la questione del gp si sa mai che a nominarlo succedono casini e dice è ma invece di usare lì bisognerebbe usarli per controllare i percettori dell'rdc per quei furbetti che prendono l'rdc i furbetti dell'rdc non gli basta perché continua su questo tono questa gente che si va a proporre ai ristoratori ovviamente io vi dico quello perché quello il suo bersaglio chiedendo di lavorare sotto banco e arriva alla fine invece di usarli contro il gp usateli per stanare chi prende a sbafo il reddito di cittadinanza ora quando vi dico che lui non risponde ai commenti perché è una realtà ma perché c'era un commento sotto interessante in cui uno pacatamente ed educatamente gli chiedeva si va bene va bene nel discorso su su ruspe tutto ma qual è il tuo programma elettorale quali sono le tue proposte perché finora tu attacchi tutti attacchi tutti ma non hai portato una sola proposta e un altro gli faceva notare che forse se quelle persone che lui difende a spada tratta per motivi elettorali cioè i quelli del settore turistico invece di pagare 2 3 euro allora cominciassero a pagare 7 8 nette probabilmente la gente che ci va a lavorare la troverebbero e quindi io ribalto la questione al signor al signor paragone visto che dici che sono i percettori rdc che vanno offrisi sotto banco secondo te è normale che una persona che non sa chi c'è dall'altra parte vada proporsi a lavorare sotto banco ma vi faccio un esempio banale mi arriva uno che mi dice guarda io prendo la rdc se mi prendi sotto banco mi tengo la rdc è così io ragionando per la mia tutela di sì e così poi me lo prendo in culo io perché se mi beccano le fiamme gialle mi fanno un mazzo tipo galleria quindi o esci da solo o io vado di là le chiamo io le fiamme gialle perché devo tutelare me stesso se uno ci va da quelle persone è perché quelle persone evidentemente queste cose le fanno normalmente è regone o vogliamo parlare di quanti di quante persone che non hanno i documenti in regola vengono assunte per poter essere sfruttate meglio visto che non puoi non possono fisicamente tutelarsi perché se se vanno a denunciare scatta per loro il casino perché non sei in regola non hai documenti a posto fuori vabbè poi fuori lo sapete che in italia un po cartone animato però prima di tutto sono loro ad andarci nei casini perché non parli degli stipendi favolosi che offrono queste persone o delle condizioni di lavoro no perché escono storie allucinanti di donne che sono in quel periodo uso questo termine non per fare il bacchettone ma proprio perché l'algoritmo è deficiente che non possono cambiarsi persone che devono andare in bagno e devono aspettare ore se no c'è sempre un'altra soluzione e lasci fare madre natura ovviamente con vogliamo parlare di queste cose orari assurdi cose registrate sul contratto che poi non vengono rispettate dal datore di lavoro che ti obbliga a restare di più stipendi da fame vogliamo parlarne di queste cose paragone o ti viene bruciare il culo eh perché non mi fai vedere tutti questi contratti favolosi offerti dal tuo bacino elettorale perché è ovvio che quello che stai facendo tu è prenderti il bacino elettorale che si era cercato di prendere ruspa ve lo ricordate l'anno scorso no quando pompava questa cosa la colpa del percettore rdc e si faceva tutti i ristoratori delle costiere per cosa per avere i loro voti poi di fatto non ha combinato un cazzo li perde adesso sono voti per così dire all'aria e allora entra paragone con la stessa con la stessa retorica e la stessa dialettica il problema alla radice è che il lavoro è sottopagato che non è tutelato secondo le norme europee e che adesso se la stessa unione europea attraverso la von der leyen dice bisogna mettere salario minimo e poi ti senti la risposta di bonomi fa sì ma per i più fragili bonomi anche in tuo caso la frase è sempre quella fai pace col cervello tu devi pagare la gente il giusto non per i più fragili tu devi pagare la gente il giusto per quello che è per le persone non tentare scappatroie da vigliacco difensore del padronato con buona pace di porro di questo mondo e quindi ti sfido io paragone su dammi delle risposte concrete fammi vedere questi contratti eccezionali per cui la gente dovrebbe correre a lavorare lì le stesse cazzate che diceva de luca e io sinceramente continuo a chiedermi se in campagna veramente lui è così apprezzato da essere il terzo governatore nell'elenco dei più amati in italia perché se è così siamo sempre qua se volete fare i tafazzi voi non lamentatevi se mi fanno male i gioielli di famiglia portamele queste prove perché io ho prove opposte a quelle che dici tu prove reali mentre tu fai solo della gran retorica la stessa retorica quindi se ti stai cercando di ingraziare la questione delle concessioni banali su cui io sono chiaro su una cosa voglio essere chiaro i piccoli i piccoli che hanno sempre rispettato le regole che hanno pagato sempre il giusto io su quelli sono il primo a dire che devono essere indennizzati devono essere indennizzati e indennizzati adesso non col sistema tipico dell'italia per cui ti prometti soldi adesso e poi te li do fa dieci anni quando ormai non siamo la più a un cazzo vanno indennizzati subito ma gli altri quelli che costruiscono strutture abusive sulla spiaggia permanenti i grandi alberghi che pagano cifre ridicole per le spiagge ma quando dico ridicole costo veramente di una notte per una suite e della concessione per tutto l'anno quelli li vuoi difendere anche quelli dicendo eh ma arrivano quelli grossi perché quelli sono piccolini ti metti sullo stesso piano dico di forte dei marmi non possiamo non vogliamo non dobbiamo no tu non solo devi non solo puoi ma sei costretto dallo stato che se avesse un po più di palle queste cose qui ai grossi le pulce le fa subito ecco il cazzo che prendono gli indennizi vado a contare quanto avete incassato pagando niente pagando niente per decenni e poi l'indennizzo dove arriva modalità schiaffone sui denti quella è la realtà ma io insisto ad invitarti sei sempre in giro a far campagna elettorale non ho capito cosa porti perché guarda io sono qui fino al 20 vuoi venire a codonio ci troviamo a codonio vuoi venire a piacenza ci troviamo a piacenza parliamone portami dimostrami che io ho torto e tu hai ragione perché finora sono tutte parole quelle che dici tutte parole buone per ringraziarti una determinata fetta elettorale ti ingrazi una certa fetta complottista complottare con certi discorsi e ti vuoi ingraziare questi con altri discorsi ma dietro dietro di programmi vedo niente vedo il vuoto e quando te lo chiedono tu fai come tutte le persone del tuo tipo fichi la testa nella sabbia e chiudo con lo schifo che è successo a gorizia concorso internazionale di violino tre ragazze vengono escluse non perché abbiano fatto chissà cosa è no perché appartengono alla patria di vladimiro quella è l'unica motivazione è l'unica è però gli viene proposto di essere riammese se condanneranno pubblicamente vladimiro e c'è il fondo di gramellini che dice nessuno è obbligato deve essere obbligato a fare eroe perché diciamo che di là su certe cose si incazzano ecco per stare molto io vado un attimo oltre io non posso forzare una persona a cambiare le sue posizioni non lo farò mai voi sapete che io e la meloni sentiamo nella stessa stanza poi come si suol dire è come se fosse passato a dottor manathan quando c'è i suoi attacchi no sarebbe molto rosso sulle pareti ma non la obbligherò mai a cambiare le sue opinioni a forza saremo sempre nemici su due barricate lontane ma non sarò mai io a costringere una persona a cambiare opinione con l'obbligo perché anche questo è un punto importante della democrazia rispettare o meglio contrastare le opinioni che non sono uguale le tue con il dialogo con il ragionamento e con le prove e con le informazioni perché se io obbligo qualcuno a cambiare idea ho torto collo con la forza non sono migliore di quel tizio che sta là a farmi inchiate amato da certe teste vuote tra cui appunto certi politici che usano anche quello per accattare altri voti io penso che sia vergognoso una cosa così sia vergognoso una cosa così e in uno stato serio la commissione andrebbe cacciata a pedate nel culo in uno stato serio ma se lo stato serio in questione facendo un jump per chiudere permette a un tizio di andare in giro con un coso per tagliare gli alberi e poi lo rimetti in libertà perché poverino è disturbato a me viene il suono in mente delfino è tanto per citarne uno così e allora si capisce che la sei età è una cosa che non alberga nelle teste di certa gente ciao a tutti